Svolgete il quesito 7 della simulazione d'esame di stato di aprile 2019. Questo è il quesito 7, un protone inizialmente inquieto e viene accelerato da una DDP di 400 volt ed entra successivamente in una regione che è sede di un campo magnetico uniforme e perpendicolare alla sua velocità. Questo è il protone e questa è la sua traiettoria curva. La figura illustra un tratto semicircolare della traiettoria descritta dal protone. I quadretti hanno lato un metro, determinare l'intensità di B.